Tanto caldo dentro e fuori I tenorini alla conquista degli Stati Uniti Il giovanissimo trio lanciato dallo show condotto da Antonella Clerici Ti lascia una canzone ha oggi un nuovo nome, Il Volo Lo stesso del loro album, coprodotto da Tony Renis che stanno portando in giro per il mondo Nel corso del loro tour sono stati ospiti dell'ultima puntata di American Idol folgorando milioni di telespettatori e volando con il loro album d'esordio al secondo posto della classifica digitale americana Nel nostro album ci sono canzoni del repertorio classico ma c'è anche il pop ci sono canzoni giovani per i giovani e repertorio classico La mia canzone preferita, forse o sole mio perché è stata la nostra prima canzone cantata insieme al talent show due anni fa disse di mettere insieme le nostre tre voci e la nostra prima canzone fu o sole mio e da lì è nato il nome Il Volo Il Volo Ma noi abbiamo fatto tante esperienze dal We Are The World for Haiti fino ad American Idol J. Lino tante esperienze ma io penso che la più costruttiva è stata We Are The World for Haiti perché abbiamo incontrato tanti artisti e siamo cresciuti davvero sia personalmente che artisticamente perché tanti artisti ci hanno dati tanti consigli La notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà Stanotte amore non ho più pensato a te